Roberto Caretto, invece, ecco, beach soccer, abbiamo detto, abbiamo visto che Sporting Tour partirà insomma col sesto campionato nazionale ICS di beach soccer proprio dal 20 giugno al 28 luglio, una delle sedi ovviamente sarà anche Ostia con Oasi, dove era Lazio, ovviamente insomma è il suo quartier generale, no? Voi allenate là? Sì, noi ci alleniamo lì ed è il nostro serbatoio del settore giovanile, da lì peschiamo quelli che diventeranno i nostri giocatori. Quindi abbiamo detto Under 20, iscrizione fatta, Under 20 e promozione, Serie A. Serie A, quindi obiettivo stagionale, quello che sarà, insomma, la stagione dura poco, sappiamo. Obiettivo stagionale, obiettivo stagionale è quello che ci siamo prefissi, è quello di raggiungere il massimo risultato sportivo possibile attraverso il bel gioco. Questo è il nostro mandato. Quindi responsabilità del mister qua, eh? È responsabilità del mister. È grande responsabilità, eh? Diciamo che, prima di parlare del mister, volevo dire che quest'anno puntiamo su una squadra che sia un ossimoro, cioè una squadra che sia umile e presuntuosa. Una squadra umile perché deve essere, va al cospetto per la prima volta, dei grandi campioni del bizzoccher mondiale, perché il campione italiano ospita i giocatori più forti in assoluto, del panorama. Ma è poi presuntuosa perché, presuntuosa nell'accezione buona del termine, cioè quella di essere consapevoli delle proprie possibilità e riuscire a esprimerle in campo. Cioè, questi penso che dovranno essere i nostri presupposti. Aggiungo un altro aggettivo, secondo me spavalda, perché sicuramente sarà una squadra anche giovane, con quell'ostatura importante di ragazzi che hanno anche accarezzato il sogno della nazionale, hanno fatto il raduno, no? Penso che loro faranno parte della... No? Sì. Sicuramente sì. Sì, avremo qualche piccolo problema nello schierare sempre la migliore formazione possibile, purtroppo, perché il calendario del campionato, che ancora non è uscito, ma si hanno già le tappe dove si giocherà, praticamente la pool promozione che giocheremo noi avrà in contemporanea le partite della nazionale, quindi probabilmente mi auguro che in quelle circostanze il mister del Duga, che abbiamo avuto la volta scorsa, non convuchi i miei giocatori migliori perché altrimenti dovremmo avere difficoltà. Però abbiamo 19 giocatori, sono tutti validi, tutti pronti per fare la cosa, si interscambieranno tra Under 20 e Serie A. Poi, il nostro mister, come diceva il buon Diego, sono tre anni che sta facendo un ottimo lavoro, abbiamo preso dei ragazzi che giocavano appunto nei tornei al CS, questi serbatoi, i cui abbiamo detto prima, ed è riuscito a portare già al primo anno a vincere, come abbiamo già detto altre volte, non vorrei essere stucchevo, la Major Cup, che è il più grosso torneo internazionale al primo anno, vice campione italiani Under 20 nello stesso anno, un po' meno bene nell'anno successivo, però abbiamo portato quattro giocatori in nazionale, che sono il futuro della nazionale, che adesso è il vice campione del mondo, e poi, diciamo, l'anno scorso terzi in Coppa Italia e quest'anno punteremo a far bene.